Silent Steve contro Killy Willy Chi è il più forte? Chi vincerà? Scopriamolo! Oggi farò sfidare questi due mostri Uno di Gartano, Bam Bam, Silent Steve L'altro Killy Willy di Puppi Playtime Che non uscirà mai Secondo voi chi è il più forte? Lasciate un like per Killy Willy Se no lasciate un commento per Silent Steve Perciò facciamoli combattere Guardate il gatto è interessato per vedere chi vince Tre, due, uno, vai! Attenzione usa la bossa del Cobra Silent Steve Silent Steve con la bossa del Cobra funziona! No vabbè Però abbiamo pure Killy Willy con i suoi artigli di Wolverine Che sta distruggendo il Cobra Il Serpentasolai sta... Che sta succedendo? E vince Killy Willy!